Per la prima volta un conflitto sulla Terra potrebbe mettere a rischio l'incolumità degli astronauti. La propaganda bellica, per ora solo di propaganda si parla, coinvolge chi lavora pacificamente in orbita, russi, europei e americani insieme da oltre vent'anni, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ISS. Il capo dell'Agenzia Spaziale Russa, Roscosmos, Dmitry Rogozin, ha risposto alle sanzioni tecnologiche imposte dagli USA dopo l'invasione dell'Ucraina, con una serie di tweet. Che si concludono con una non tanto velata minaccia, l'ISS potrebbe precipitare sugli USA, sull'Europa o su qualche altro paese. Ma non sulla Russia. Siete pronti? La Casa Bianca il 24 febbraio ha imposto assieme agli alleati severe sanzioni sull'export, nel tentativo di impedire alla Russia l'accesso alla tecnologia all'avanguardia necessaria all'industria bellica così come a quella spaziale. Il presidente americano, Joe Biden, ha poi dichiarato, taglieremo più della metà delle importazioni di alta tecnologia della Russia e questo infliggerà un duro colpo alla loro capacità di continuare a modernizzare le loro forze armate. Degraderà la loro industria aerospaziale, compreso il loro programma spaziale. Nella serata i tweet di Rogozin, un lungo thread con il quale il direttore generale dell'Agenzia Spaziale Russa risponde facendosi chiaramente beffa delle sanzioni. Biden ha affermato che le nuove sanzioni influenzeranno il programma spaziale russo. Ok. Restano da capire i dettagli. Per primo, se vuoi bloccare il nostro accesso alla microelettronica spaziale resistente alle radiazioni, l'hai già fatto ufficialmente nel 2014. Noi, tuttavia, continuiamo a realizzare la nostra navicella spaziale. E lo faremo espandendo la produzione dei componenti e dei dispositivi necessari a casa nostra. Secondo, se vuoi vietare a tutti i paesi di lanciare la loro navicella spaziale sui razzi russi più affidabili al mondo, anche per questo siamo pronti. L'ISS, se noi russi abbandoniamo la sua gestione potrebbe precipitare su USA o Europa, o anche su Cina o India, ma non sulla Russia perché la sua orbita non passa dalla Russia. Se bloccate la Russia chi salverà l'ISS da un de-orbiting incontrollato in cui possa cadere sugli USA o l'Europa? C'è anche la possibilità che una struttura da 500 tonnellate cada sull'India o la Cina. Nata nel 2000, l'esistenza dell'ISS oggi è possibile solamente grazie a una cooperazione internazionale, in particolare tra USA e Russia. I moduli principali sono infatti strettamente interdipendenti, i moduli americani garantiscono l'energia a tutta la struttura mentre quelli russi forniscono la spinta necessaria al mantenimento in quota. Per evitare che poi le sanzioni ti si ritorcano contro aggiungere o gozzi in e non solo in senso figurato, vi suggerisco di smentire il malato di Alzheimer. È evidente il riferimento del dirigente russo a Joe Biden. Poi una cosa che non si era mai sentita, non a questi livelli. Se vuoi distruggere la nostra cooperazione sull'ISS. Oppure vuoi gestire tu stesso l'ISS. Spiegategli, al presidente Biden, che la correzione dell'orbita della stazione, per evitare pericolosi scontri con i rifiuti spaziali, con cui i vostri talentuosi uomini d'affari hanno inquinato l'orbita vicino alla Terra, è prodotta esclusivamente dai motori della navi cargo Progress MS. Se bloccate la cooperazione con noi, chi salverà l'ISS da un de-orbit incontrollato e dal cadere sugli Stati Uniti o sull'Europa? Ancora una volta, aggiungiamo da questo canale, scopriamo che l'Occidente parla a vanvera, se sarà per questioni mediatiche o per vera ignoranza spetterà ai posteri l'ardua sentenza. Da questo canale rileviamo anche che la ipotesi che il presidente degli USA Biden sia malato di Alzheimer, è dunque inesorabilmente confermata dalla intelligence russa. Il nuovo ordine mondiale ha trovato nella Russia di Putin un muro invalicabile, un muro di quelli che fanno male, molto male.